Croce Rossa italiana, senza atomica e same project, tre sguardi, tre esperienze sui temi della pace, del disarmo mondiale e dei diritti e quanto raccontato nell'ambito dell'evento Facciamo la Pace, promosso dal Consiglio regionale del Piemonte al Salone del Libro di Torino, filo conduttore dell'incontro, raccontare un nuovo modello di coalizione civica globale tra chi lavora nelle zone di guerra, chi combatte per un mondo senza armi atomiche e chi pensa che l'integrazione non possa prescindere dal lavoro In questi contesti noi siamo anche, se posso permettermi di dire, portatrici di pace perché nell'ambito dei nostri principi che sono i principi della Croce Rossa, di umanità, di non differenza di nulla, di razza, di religione eccetera è chiaro che andiamo a promuovere un processo sia nell'aiuto e nell'ascolto e in tanti ambiti dove possiamo in qualche modo dare il nostro aiuto Cerchiamo comunque di portare avanti, almeno per quanto riguarda il nostro movimento, che ricordo in Italia si chiama Senza Atomica siamo insieme a Rete Italiana per il Disarmo, tra i principali partner italiani di ICANN, Premio Nobel per la Pace 2017 stiamo cercando di portare avanti il dialogo e quindi attraverso mezzi pacifici, anche a livello proprio di violenza verbale Noi abbiamo scelto, diciamo, Consain Project che è un progetto di ricerca sulle esperienze di integrazione lavorativa dei migranti di parlare di integrazione a partire da un tema specifico che è quello del lavoro perché molto spesso in Italia ci concentriamo tantissimo sulla prima e primissima accoglienza mentre invece con la nostra ricerca noi abbiamo voluto dimostrare che in tutta Europa il tema fondamentale su cui si investe è prima di tutto quello del lavoro